Grazie di vero cuore, grazie per avermi portato questo camion al mio compleanno, oggi faccio 20 anni, oggi sono nato io, sono nato il 26-11-2001 e mi avete fatto come regalo questo Iveco Turbo, Turbo Z, grazie, grazie, per avermi portato questo qua oggi al mio compleanno, perché sono nato il 26-11-2001, ho trovato questo camion qua, che bello, come se qualcuno mi volesse fare un regalo, un regalo del compleanno, il camioncino vintage, bello il camion vintage, bellissimo, guardate cari amici, guardate, il camion vintage, il Iveco Z, non ricordo lì si primeranno, la vecchia Joa, Marvin, comunque cari amici, oggi è il mio compleanno, è come se mi avessero fatto questo bellissimo regalo del camion, mi avessero regalato questo camion, oggi, il 26-11-2001, abbiamo abbiamo visto questo Iveco 109-14, qua alla pizzeria da Rovella, a Noggiano, in provincia di Cosenza, ve lo faccio vedere così, oggi poi, mi hanno fatto la sorpresa nel compleanno, mi hanno fatto, perché non sapevo, tutti mi dicevano, no, no, non vengo, non vengo, non vengo, e poi mi hanno fatto la sorpresa qua, bellissimo, camion vintage, e grazie ancora per gli auguri, e grazie ancora per tutti quanti per gli auguri del compleanno, grazie di vero cuore, ve lo dico proprio con tutto il mio cuore, grazie, 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 non me l'aspettavo, bellissimo, 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 bellissimo regalo, pure il camion vintage, se me lo avete fatto, per me, guarda, è un grazie di vero cuore, ve lo faccio vedere così, beh, è tenuto bene questo canno, comunque, a tutti i miei complanni non aspettavo un camioncino vintage, nessuno me lo dava, ma ora ho trovato questo camioncino avanti a me, davanti gli occhi sono rimasto su a casa, ho detto, no, non è possibile, ma avete fatto questo regalo, bellissimo, 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 grazie, amici, grazie, 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 anche se non sento il rompolo del camion, però comunque vi do i miei grazie proprio ad alto volume, ad alta voce proprio, perché me sono rimasto commosso, guarda, me sono commosso, grazie, grazie, amici, grazie, viva il vintage, viva i camion, vintage, cari amici, viva i camion vintage!